Parte oggi la diciottesima edizione di Sport Day Savellino che andrà avanti fino al 20 giugno. Alle ore 18 di questo pomeriggio la sfilata inaugurale dell'evento che partirà da Corso Vittorio Emanuele per raggiungere Parco Manganelli. Saranno presenti gli atleti, i tecnici, i dirigenti, le società sportive, le associazioni e le istituzioni. A presentare la manifestazione il delegato del CONI Giuseppe Saviano. Tutti gli sport e tutte le discipline sportive come sempre, le attività ricreative come ci saranno anche i burattini, il teatro, in più ci saranno giochi da tavolo, più attività di animazione. Ma quello che voglio sottolineare tant'è che il mio articolo di fondo che scrivo ogni anno è intitolato lo sport e la famiglia. Parco Manganelli deve essere dedicato soprattutto alle famiglie nel senso che creare delle situazioni meno bellicose all'interno delle attività sportive, creare la possibilità di fare sport divertendosi. Poi, l'ho detto già in conferenza, l'obiettivo è quello di dare una sintesi al bambino che non debba essere un monocolore della propria vita, se è corretto o mutuando in termine politico, ma debba essere aperta a tutti gli interessi per poi creare una sintesi perché noi abbiamo l'intelligenza come esseri umani di creare sintesi rispetto a tutte le conoscenze che andiamo a seguire. Per l'intera durata della Kermess è previsto per gli under 13 il servizio di trasporto gratuito per garantire il miglior afflusso e deflusso dei visitatori. Dalle 17 alle 21 e per i 20 giorni della manifestazione da e per il parco ci sarà il trasporto gratuito sul mezzo pubblico per i ragazzi fino a 13 anni. Quindi questo credo che sia un grosso passapanno che serve soprattutto a smaltire il traffico ma anche a creare un'abitudine in Avellino dell'uso del trasporto pubblico.